Adoro. Adesso vado a vedere tutto, amore. Poi ci chiamo con calma dove ci raffichiamo. Alle cuci off records, amore, c'erano delle cose. Io ho visto delle cose, amore, fuori da spavento. Anche io, amore. Anche io. Anche io. Delle cose spaventose, cioè. Esatto. Anche io, però, vabbè. Ma poi, cioè. Non siamo tutti uguali. Ma poi vi rivedi? Ciao! Sì, come se niente fosse. Minchia, sono andata a vedere delle cattiverie. Anche a me è capitato, tesoro. Hai capito? Manca a me. Articoli, cose tremende. Poi quando sono uscita, amore, sei stupenda, meravigliosa. Ciao, facciamo le foto, pubblichiamole. Ma come? Con preferenza, un po'. Però vabbè. Eh, lo so. Forza, lo so. Amore, guarda, ti dico, mi mancherà la casa. Fin fondo mi mancheranno tutti. Ma di dirti tutti, tutti, no. Tutti, tutti, no. Ce l'ho vista. Sei bloccata? Eh, esciuti. Ecco, questo è fantastico. No, eccomi. Ci mancherà questa casa, perché comunque è una cosa talmente forte. Sì, ma dire che mi mancheranno tutti, tutti, no. Talmente emozionante. No, tutti, 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 no. No. Tutti, tutti, no. Tutti, tutti, no. No. No, perché amore c'è. Io ho la metà. Ma io assistevo a delle cose terrificanti. Cioè, terrificanti. Non lo so, poi vedrai piano piano la Gaia ti farà vedere tante cose. Uh, amore, Gaia ti farà vedere tante cose. Non puoi fare tutto in un giorno perché non ce la fai. Però piano piano ti farà vedere, ti farà ascoltare tutto, ti farà e poi ti rendere conto. Così come ho fatto io. Capisci. Capisci. Amore, oggi ho visto delle cose, io ero così. Eh, lo so, lo so. Lo so, lo so. Amore, ho visto, ma anche non troppo, anche cose non relative al GF. Eh, lo so. Lo so, però, lo so. Amore, c'è una cosa che riguarda una persona che ha avuto a che fare con me? Amore, io ho scioccato. Shock. Amore, shock. Cioè, io morta per terra, tipo, che dicevo, oh mio Dio. Cioè, shock. Amore. Ma sono sciocchi, perché tante volte si fanno queste cose per visibilità, per pochi sottini, per la voglia di apparire. Però non funziona così, non è neanche giusto queste cose. Però ti posso dire. Ti dico sempre che il bene vince sempre sul male. Io, oltre a questo, c'è una figura di merda... Una figura di merda... Ma non funziona così, perché...